Negli ultimi sette giorni riscontro di 396 pazienti positivi al Covid, tutti in isolamento domiciliare. 153 pazienti di Caltanissetta, 73 di Gela, 50 di San Cataldo, 24 di Niscemi, 20 di Mazzarino, 15 di Mussomeli, 13 di Delia, 9 di Vallelunga Pratameno, 8 di Santa Caterina Villarmosa, 7 di Milena, 5 di Riesi, 4 di Serra di Falco, 4 di Sommattino, 2 di Butera, 2 di Campofranco, 2 di Marianopoli, 2 di Montedoro, 1 di Bombenziere e 1 di Sutera. Ricoperati in degenza ordinaria 6 pazienti di Caltanissetta, 4 di Gela, 4 di Niscemi, 3 di Mazzarino, 1 di San Cataldo, 1 di Delia e 2 provenienti da fuori provincia. Dimessi dalla degenza ordinaria 4 pazienti di Caltanissetta, 2 di San Cataldo, 2 di Marianopoli, 1 di Gela, 1 di Riesi, 1 di Niscemi, 1 di Vallelunga Pratameno e 1 proveniente da fuori provincia. Deceduti 3 pazienti positivi al Covid, 1 di Caltanissetta, 1 di Gela e 1 proveniente da fuori provincia. I guariti sono 153 di Caltanissetta, 71 di Gela, 29 di San Cataldo, 20 di Niscemi, 9 di Mussomeli, 7 di Sommatino, 7 di Milena, 7 di Delia, 6 di Mazzarino, 6 di Santa Caterina Villarmosa, 5 di Riesi, 3 di Montedoro, 2 di Campofranco, 1 di Butera, 1 di Resuttano, 1 di Sera di Falco, 1 di Vallelunga Pratameno e 1 di Villalba.